Quanto investi su te stessa? Quanto investi nel tuo business? Sappi che se vuoi attrarre i clienti giusti o in target, devi prendere cura della tua immagine, del tuo aspetto, della tua cabina. In più, devi avere una formazione tecnica che ti permetta di dare risultati. Questa è la formula magica per avere l'agenda solo con clienti in target. Se tu continui a ignorare queste cose e pensare che il problema è la concorrenza o che la gente non ha soldi, sei condannata a lavorare tanto e rimanere sempre al verde e la tua salute e il tuo conto in banca ne risentiranno. Investi in te stessa, nella tua formazione, nella tua immagine, nella tua cabina e pian piano raccoglierai i cambiamenti positivi. Cosa fai per investire su te stessa? Dimmelo nei commenti!